Se stai cercando un appartamento con due camere da letto, sala, cucina, balcone, garage, cantina, già a posto, senza lavori, con infissi nuovi, impianti a norma, box doccia, beh, rimani con me perché non te ne pentirai. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Siamo in via Manzoni di fronte al parco pubblico e qui si trova questo appartamento al primo piano in una palazzina di sole 4 unità, quindi senza spese condominali, con ingresso, soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno finestrato con box doccia, due balconcini, oltre a cantine e garage al piano terra. Ah, gli impianti sono già stati tutti rifatti e quindi è già provvisto di dichiarazione di conformità. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito Perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri Ci vediamo in visita